Le bambine e i bambini della classe terza della scuola primaria Guglielmo Marconi di Campo San Martino presentano noi piccoli esploratori della memoria Da sempre interessati alla storia tra i reperti del passato ci siamo dati da fare per vedere e toccare con mano oggetti risalenti alle due guerre mondiali Abbiamo cercato abbiamo chiesto abbiamo fotografato ci siamo documentati e in qualche occasione siamo anche riusciti a portare i reperti in classe Questo cappello apparteneva al bersagliere Ettore Ceroni nonno della nostra maestra Ettore era nato a Carmignano di Brelta nel 1894 e ha combattuto durante la prima guerra mondiale Il cappello da bersagliere si chiama si chiama Vaira Le piume sono di cappone nero e va portato e inclinato sulle 23 Queste mollettiere facevano parte della divisa di bersagliere del soldato Ettore Ceroni Ettore era nato a Carmignano di Brenta nel 1894 e ha combattuto durante la prima guerra mondiale Le mollettiere Le mollettiere andavano indossate sotto i pantaloni alla guava servivano per sostenere la muscolatura delle gambe durante le lunghe e per proteggere dal freddo fango e neve Queste sono le piazzine in dotazione soldati della prima guerra mondiale appartenevano a Virginia Mela i bisnonno di mio papà che era della classe 1882 ed era un fante del 228esimo reggimento fanteria brigata Rovigo Le piastrine servivano per identificare soldati in caso di morte o di emergenza sono come delle scatoline in metallo con all'interno un foglietto ripiegato dove venivano riportati i dati del soldato come nome cognome data di nascita famiglia di origine reparto di appartenenza vaccinazione ricevute e altri dati utili a riconoscere la persona che le portava questo è un fucile austriaco della prima guerra mondiale l'ha trovato il nonno del signor Fabio Chinchio 40 anni fa sul monte Grapp in località di San Giovanni mentre faceva degli scavi per ristrutturare la casa che aveva comprato durante la guerra quella casa era stata un ospedale da campo austriaco questi sono proiettili di mortaio austriaco sono stati trovati nella stessa casa del fucile erano cariche e poi è stata tolta la polvere da sparo in questa foto si possono vedere alcuni reperti principalmente riconducibili alla prima guerra mondiale come frammenti di granate bombe bozzoli cartucce tutti ritrovati in località Cismondelgrappa questo è un pugnale appartenuto ad un soldato che ha combattuto nella prima guerra mondiale sul monte grappa è stato ritrovato nei pressi di Cismondelgrappa questa è una bomba lanciata da un aereo austriaco sul monte grappa durante la prima guerra mondiale ora si trova nel giardino di mio nonno Giuseppe questi sono bossoli di proiettili usati nei cannoni antiaerei che cercavano di contrastare la missione angloamericana sono in ottone sono stati raccolti a porto di Legnago in provincia di Verona sull'argine sinistro del fiume Adige dal signor Braggio Mario dopo il bombardamento del 23 aprile 1945 la zona di Legnago fu bombardata varie volte durante la seconda guerra mondiale ma il bombardamento del 23 aprile 1945 fu il più terribile i bombardieri pesanti americani rasero al suolo la cittadina del Legnago nel tentativo di tagliare tutte le comunicazioni stradali e ferroviarie verso la Germania questa è una placca questa è una placca del periodo della seconda guerra mondiale è di metallo un po' in rilievo con delle lettere e dei numeri incisi serviva a mio nonno come lascia passare per entrare nel porto di Catania perché durante la guerra l'accesso non era consentito a tutti questo cappello e questi occhiali appartenevano al mio bisnonno che era un militare facevano parte della sua divisa nel periodo in cui ha comattuto in Africa nel 1940 e questo è un album di fotografie del mio bisnonno contiene le foto di tutta la sua vita da militare dal 1935 fino al congedo ci sono tante foto del periodo della seconda guerra mondiale queste sono le medaglie al valore militare e croci al merito di guerra che il mio bisnonno ha ricevuto per aver partecipato a diverse campagne militari e battaglie nel periodo della seconda guerra mondiale e la nostra ricerca continua grazie a tutti